Stato di agitazione per il comparto lattiero caseario a causa delle invasioni di prodotto straniero che stanno facendo crollare i prezzi del latte alla stalla in Puglia. La denuncia arriva da Coldiretti Puglia. Sentiamo. Coldiretti Puglia dichiara lo stato di agitazione del comparto lattiero caseario a causa delle invasioni di prodotto straniero che stanno facendo crollare i prezzi in Puglia di latte alla stalla. All'emergenza prezzi, ha detto Giorgio Apostoli, capo servizio Zotecnia della Confederazione Nazionale Coldiretti, si aggiunge il problema grave che molte partite di prodotto non riescono a trovare acquirenti e molti caseifici stanno comunicando agli elevatori la decisione unilaterale di sospendere il ritiro del latte anche per 15 giorni mentre dalle frontiere italiane passano ogni giorno 24 milioni di litri di latte tra cisterne, semilavorati, formaggi, cagliate e polveri di caseina per essere imbustati o trasformati industrialmente e diventare magicamente mozzarella, formaggi o latte italiani all'insaputa dei consumatori. Un fiume di latte sta invadendo la Puglia, ha incalzato il vicepresidente di Coldiretti Puglia, Alfonso Cavallo. A prezzi bassissimi, che arrivano fino a 0,23-0,24 centesimi, si contrappone il prezzo di un litro di latte al consumo che continua a costare da 1,30 a 1,60 e i prezzi dei prodotti lattiero caseari sui banchi della distribuzione organizzata sono rimasti stabili. Chiediamo che vengano intensificati i controlli, che venga verificata la destinazione finale di questo latte straniero di dubbia qualità anche per garantire la reale applicazione del decreto sull'indicazione obbligatoria dell'origine del latte in etichetta. Una vera e propria cintura di sicurezza per i nostri allevatori che devono poter competere alla pari e per la salute dei consumatori che devono scegliere in maniera consapevole quello che acquistano e mangiano, dice il vicepresidente di Coldiretti Puglia, che aggiunge la vera e unica indicizzazione di cui il comparto zootecnico ha bisogno è il vincolo indissolubile tra il prezzo del latte alla stalla e il costo di latte e formaggi che i consumatori acquistano nei negozi e nei supermercati. Intanto continua durante le ore notturne il monitoraggio a cura di Coldiretti Puglia, del transito e lo scarico delle cisterne di latte che spesso, pur essendo con targa italiana, denuncia Angelo Corsetti, direttore di Coldiretti Puglia, trasportano latte estero. Al tavolo convocato dall'assessore di Gioia si è deciso di procedere immediatamente alla redazione di un protocollo d'intesa che preveda la condivisione dei dati e dei metodi nella definizione del costo in Puglia del latte e la predisposizione di un contratto tipo da parte della regione per regolamentare gli scambi secondo una tabella di qualità, così come previsto dalla legge, dice Coldiretti Puglia. In Puglia, a fronte dei 1939 allevamenti che producono 3,6 milioni di quintali di latte bovino, le importazioni di latte dall'estero raggiungono i 2,7 milioni di quintali e i 35 mila quintali di prodotti semilavorati utilizzati per fare prodotti lattiero caseari che vengono poi venduti come prodotti made in Puglia. Da ultimo, Coldiretti ricorda il contenuto del decreto sull'indicazione obbligatoria dell'origine del latte in etichetta e su cui deve essere riportato il paese nel quale il latte è stato munto e il nome della nazione nel quale il latte è stato trasformato.